Siamo nella zona artigianale laggiù c'è la collina ma c'è un grande spiegamento di poliziotti che impediscono di salire perché lassù dietro con la collina c'è la gregnina e tutti qua sono tutti fermi e tutto è bloccato agli accessi per cui il corteo può solo fermarsi qui a medio di una salta la collina grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.